L'export lucchese ha i massimi storici nel primo semestre 2024. Con un incremento del 7%, la provincia continua un trend positivo grazie soprattutto alla nautica, che ha un forte impatto sul risultato complessivo e al contributo della farmaceutica, dell'olio e della meccanica. Le esportazioni hanno raggiunto un nuovo record, superando i 2 miliardi 800 milioni di euro. Flessione invece per Massa Carrara, che ha registrato un meno 4,7%, influenzato principalmente dalle oscillazioni della meccanica, scendendo sotto la soglia del miliardo e 200 milioni di euro raggiunta nello stesso periodo del 2023. A livello nazionale, l'export ha segnato un calo dell'1,1%, mentre la Toscana ha visto una crescita dell'8,7%, trainata dai settori farmaceutico e della gioielleria. È il quadro che emerge dai dati elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in collaborazione con l'Istituto Studi e Ricerche. Il risultato lucchese ha segnato un incremento di quasi 200 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023 e di 150 milioni rispetto al 2022. Tuttavia, la cartotecnica, il lapideo e le calzature hanno registrato una contrazione. Anche le importazioni hanno subito una diminuzione dell'11,6%. La cantieristica si conferma in grande crescita, con vendite all'estero che hanno superato i 650 milioni di euro, rappresentando quasi un quinto dell'export provinciale e segnando un incremento del 28% rispetto all'anno precedente.